E si procede ancora con un'altra azienda? Sì, è quest'altra, è per un'azienda a cui anche tengo particolarmente, proprio perché c'è una persona che verrà a ritirare adesso il premio, che è Corrado, ed è l'azienda a Palmeri, Corrado Ligioi, buonasera. Sì, giustamente, Ligioi, perché l'ho chiamato ora sopra, è Corrado. L'amicista poi porta a darsi direttamente. Sì, e anche qua dobbiamo tantissimo, perché loro producono un vino eccezionale, ma il modo in cui siano riusciti in poco tempo a decidere tutti insieme come azienda, grazie al lavoro che ha fatto Corrado all'interno dell'azienda, stasera era presente anche il titolare, c'era un bel tavolo, devo dire, che ci ha inorgoglito tantissimo e la forza di Corrado è stata proprio quella di riuscire a farsi da comunicatore della nostra realtà. Ci è riuscito, perché effettivamente è un prodotto eccezionale. Abbiamo anche creato insieme una bevanda alcolica che è particolare, poi un progetto Palmeri Tesori Italia, che è Palmina, che trovate anche nella nostra sfera dei tesori e che è un un po' un segnale di un percorso, di un inizio, che vedrà sicuramente le nostre realtà collaborare per tanto tempo. Due parole, Corrado? In realtà è molto bravo a cantare, mi è stato chiesto di farlo cantare, ma sta lungo. Da tre giorni che ridiamo sto canto. Allora, ringrazio a tutti, ho conosciuto diverse persone questa sera. Per me è stato comunque un onore essere inviato da te in questo progetto. Quando me ne hai parlato telefonicamente, poi sei venuto in cantina, così per gioco, però io ci credevo. Non amo la moltitudine della confusione, perché crea confusione. Invece l'ambiente che hai creato questa sera con diversi produttori ha creato veramente il giusto ambiente, in modo tale da farci conoscere e emergere questi tesori magari nascosti. Mi ha emozionato la storia di Giorgio, che non sapevo. Ho scambiato qualche parola con sua sorella inizialmente. Ti faccio i miei migliori auguri. Giorgio, adesso non so dove sei, sei qua. Per me è un piacere anche essere un tuo cliente. E che dirvi, grazie. Grazie a tutti coloro che hanno apprezzato i nostri prodotti. Sì, viene fatto compassione dietro, veramente. Dietro c'è tanto lavoro, si fa ancora il lavoro delle mani, non meccanicamente. Il desiderio mio è quello che è venire a trovare tranquillamente. E lì siamo una famiglia e Riccardo ha avuto modo di vederlo in diverse occasioni. Grazie di questo premio. In bocca al lupo per tutto e per tutti. E grazie. Grazie. Grazie a Giorgio. Grazie alla Cantina Palmeri. E a favore di scatti per questa serata il Gala dei Tesori d'Italia. Grazie a tutti.